Buongiorno da FT Online, positivo l'andamento del mercato, questa mattina abbiamo il Fuzzimib infatti che guadagna lo 0,6% circa, siamo ancora al di sotto di questa importante resistenza, la trendline che parte dal massimo di agosto, che passa intorno ai 26.150 punti, quindi fino a che non verrà superato quel livello di resistenza c'è il rischio che il movimento di rimbalzo venga poi riassorbito, sul DAX siamo al di sotto dei massimi di ieri e al di sotto anche del lato alto del gap ribassista dell'8 settembre, che funziona come resistenza intorno ai 15.820 punti, quindi entrambi i mercati sono come dicevamo positivi, il DAX è anche un po' attardato rispetto al Fuzzimib, che guadagna solo il 0,2%, ma entrambi devono ancora inviare un segnale di conferma di questa positività che permetta di pensare ad un proseguimento della fase crescente. C'è attesa il dato americano sull'inflazione del 14.30, occhi puntati ovviamente su questo importante riferimento macro dal momento che l'inflazione in questo momento condiziona pesantemente le scelte di politica monetaria della Federal Reserve. Fino ad oggi la Banca Centrale USA ci ha sempre raccontato che l'impennata dell'inflazione era un fattore solo temporaneo, adesso ci sono alcuni esponenti del board della Banca Centrale Americana che iniziano a ventilare il rischio che questa situazione non sia solo temporanea, che sia necessario quindi agire in particolare riducendo gli acquisti di asset che hanno caratterizzato gli ultimi mesi per evitare un ulteriore surriscaldamento dei prezzi. Vedremo come la prenderanno le borse che però sono consapevoli di questa situazione dopo qualche sbandamento nelle ultime settimane e stanno conservando in questa fase i nervi saldi. Oggi volevo parlare di un argomento tecnico abbastanza interessante, il returne move, quella particolare condizione che si verifica di solito sul grafico alla rottura di un livello importante. Mi è stato chiesto se è possibile approfondire l'argomento, lo faccio volentieri. La domanda la più specifica in particolare mi si chiedeva se era possibile dare una percentuale della probabilità che questo momento si realizzi e di quanto sia temporalmente vicino alla rottura del livello significativo. Purtroppo non ho risposta a queste due domande, possiamo andare però a vedere più o meno di che cosa stiamo parlando. Per il returne move si intende, come dicevamo, quella fase di pullback che caratterizza la rottura di livelli importanti. Molto spesso si realizza dopo il completamento di un testa a spalle, ad esempio qui avevamo un testa a spalle ribassista sul grafico del Fuzzimib, questa era la neckline, vedete dopo il completamento della neckline, scusate la traccio meglio, dopo il completamento della neckline che era stata violata con questo piccolo gap a conferma della sua importanza, i prezzi avevano esercitato appunto questo pullback verso la ex linea di supporto, ora è divenuta resistenza, prima di proseguire ulteriormente verso il basso. Il target del testa a spalle era dato dalla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura, questa è l'ampiezza del testa a spalle, questo è il punto di rottura e vedete più o meno il target era stato raggiunto. Altra situazione classica nella quale si realizza un return move è alla rottura di un livello tecnico importante, ad esempio quello che abbiamo visto quando i prezzi hanno superato il massimo dell'8 giugno c'è stato un allontanamento e poi nelle ultime sedute i prezzi sono tornati a vedere dall'alto quel livello che è diventato il baricentro dell'azione per quello che riguarda dei movimenti dell'indice, quindi un livello decisamente importante. Andiamo a guardare altri esempi con il DAX, volevo farvi vedere come questa cosa funzioni anche quando si parla di rottura di trendline, se prendiamo questa trendline rialzista, vedete anche qui c'è stata la violazione della linea con un gap, tutte le volte che c'è un gap che compare alla rottura di un livello importante si può dare maggiore credibilità a quel segnale, dopo la rottura della trendline era comparso questo piccolo testa a spalle rialzista e a partire da quello i prezzi hanno effettuato il return move fermandosi in prossimità della vecchia linea di tendenza. Linea di tendenza che poi ha continuato ad essere importante anche nella fase successiva perché è quella sulla quale si sono scontrati i massimi sia di dicembre sia di gennaio sia di febbraio del 2020, quindi una linea che ha continuato ad essere efficace nel tempo. Anche nel caso della rottura di questa trendline, partire dai massimi del inizio del 2020 al massimo del settembre del 2020, anche in questo caso dopo la rottura che aveva impiegato qualche giorno per realizzarsi c'è stato un primo allontanamento e poi un ripiegamento verso la vecchia linea di tendenza. Andiamo a vedere se troviamo altri esempi su altri mercati, ad esempio qui abbiamo il Nikkei che oggi ha fatto registrare un nuovo massimo pluriannale riportandosi su livelli che non venivano visti, mettiamo il grafico settimanale, livelli che non venivano visti dal 1990, anche qui ci sono delle situazioni di return move, andiamo a esplorare ad esempio, guardiamo se ci sono dei riferimenti per quello che riguarda il passato, con la rottura di questa trendline c'è stato il superamento della linea tendenza, il ritorno verso la linea e una nuova ripartenza. Andiamo a cercare se c'è qualche pattern particolarmente significativo, qui c'era stato ad esempio questo testa-spalle anche se forse non da manuale visto che le due spalle non sono esattamente uguali, però anche qui vedete la rottura della neckline, c'è stata una prima accelerazione ribassista, un triplo return move perché i prezzi sono tornati 3 volte a toccare la neckline, se ne sono allontanati di nuovo, non sono riusciti a fare un nuovo minimo e sono ripartiti a rialzo. Sono curioso di vedere se la distanza dalla neckline ai minimi ha un qualche legame con i rapporti di Fibonacci in merito al calcolo del target, abbiamo detto che di solito per il calcolo del target si proietta l'ampiezza della figura dal punto di rottura, il target canonico è dato dalla proiezione del 100% dell'ampiezza della figura, ma molto spesso sono importanti anche i riferimenti di Fibonacci del 50% e del 61,8%, in questo caso il target è stato raggiunto sul 50% di proiezione. Vediamo se ci sono altri esempi che possiamo citare come calzanti, questo è il grafico ad elementi settimanali, torniamo sul grafico ad elementi giornalieri, qui abbiamo una rottura di una trendline, vediamo se c'è stato un rimbalzo che ha riportato i prezzi verso la linea, qui direi che il rimbalzo non è stato particolarmente significativo, comunque andiamo adesso a cercare sul mercato americano, sul Dow Jones se c'è qualcosa di interessante che possa spiegare ancora questo fenomeno, ripeto non è possibile dare una percentuale nella quale si realizza il rimbalzo di ritorno, è vero che quando siamo in presenza di una figura questo accade molto spesso, quindi in particolare se abbiamo un testa a spalle come in questo caso, vedete questo è il classico testa a spalle ribassista, la violazione della sua neckline che era questa, i prezzi hanno accelerato al ribasso, qui è la seduta della violazione della neckline, hanno accelerato al ribasso, sono tornati indietro a toccare la neckline dal basso, se ne sono ovviamente allontanati, anche in questo caso non hanno raggiunto il target del 100% della proiezione e poi sono ripartiti al rialzo. Per quello che riguarda i movimenti successivi, vediamo se c'è qualcosa di interessante nel passato più recente, ripeto le occasioni nelle quali si può realizzare un return move sono o dopo il completamento di un pattern particolarmente significativo, che può essere un testa a spalle rialzista ribassista o un doppio massimo o un doppio minimo, oppure in caso di rottura di livelli tecnici importanti, in particolare livelli di supporto a resistenza orizzontali o trendline. Nel caso della violazione di questa trendline vedete la linea di supporto poi è diventata una linea di resistenza e al momento i prezzi se ne stanno allontanando, anzi sembrerebbe che si sia realizzato ancora una volta un testa a spalle ribassista, anche se ancora non è stato completato, visto che nelle ultime due giornate le quotazioni si sono fermate a toccare la neckline senza riuscire a portarsi in al di sotto, quindi situazione delicata per quello che riguarda il Dow Jones Industrial. Oltre alla rottura di livelli dati da trendline rialzista o ribassista c'è ovviamente anche il superamento di livelli orizzontali particolarmente rilevanti, nel momento in cui i prezzi superano una resistenza importante orizzontale molto spesso se ne allontanano ma poi tornano a rivederla prima di ripartire nella stessa direzione della rottura originaria. Ovviamente se c'è il ritorno al di sotto del livello precedente qualche dubbio sulla validità del segnale emerge, in questo caso invece è stato proprio da manuale, rottura del livello, allontanamento, test dall'alto e ripartenza. Ovviamente come dicevamo non è possibile stilare una regola per quello che riguarda questi comportamenti, abbiamo detto che accadono più frequentemente dopo il completamento di una figura particolarmente rilevante, certo è che se tengo presente la possibilità che si possano realizzare, posso modulare meglio la mia operatività perché nel momento in cui inizio ad essere consapevole che c'è la possibilità di un return move, se combino questa ipotesi con un'analisi tecnica tradizionale ovviamente ho una maggiore possibilità di andare ad implementare operazioni particolarmente interessanti, qui ad esempio abbiamo visto la rottura di questa linea di tendenza orizzontale, quindi puntata a partire dal massimo del 16 luglio del 2019, rottura della linea di tendenza con un gap, i prezzi se ne sono allontanati e poi quando sono tornati a testarla dall'alto hanno disegnato questa bella candela di tipo hammer, quindi il classico martello rialzista facendo 2 più 2, quindi comparsa di una candela rialzista in prossimità di un livello così importante che è stato rivisto dopo un return move, l'idea di andare a comprare diventa molto più allettante rispetto a quella magari di andare a comprare senza avere un riferimento grafico così significativo nelle vicinanze. Spero di essere stato utile con questo approfondimento, nel caso ci siano ulteriori domande non esitate a farle nei commenti al video, per quello che riguarda invece il video relativo agli utenti patron, oggi guarderemo Ferrari, STM, Stellantis e CNH che tutti e 4 stanno disegnando dei movimenti abbastanza interessanti. Vi ringrazio l'attenzione, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.